E' già da questo secondo punto Si sposta prima là lì e riesce E' non riesce Anticipa una risposta Ace All'incrocio E' questa Giocheranno ben 11 In Cina Corto il dritto della Geng E qui riesce Mettere i piedi dentro Che drop shot E' velocissimo Altro ace Da destra Grazie 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 Grae risposta E non è riuscita a essere Definitiva con il rovescio La Geng E allora Ce ne sono voluti 4 I set point per chiudere Meno di mezz'ora Come giocare dritto la lì Assegno con il dritto 0-15 Il passante Il passante stretto di dritto della lì E alla fine Trova un grande jolly Altro dritto Altro tracciante E ha perso a campo E ha perso a campo la Geng Se ne va il tentativo di loro E viene avanti la lì Stavolta gioca con più attenzione Nooo Cosa ha fatto la Geng E che cosa Spreca 40-15 E si fanno sul nastro Il tentativo E ha giocato con molta più attenzione Questo scambio In avanti con il chop Ma gioca un grandissimo passante stretto Gran prima Nastro è la palla che passa 15-0 Magnifico questo dritto La possibilità di Chiamarlo Ulteriormente Banale 6-3-6-4 Anche questo Era un turno ribattuta Tutt'altro che Gran recupero della lì Che poi Vasse Grande C'era azione di dritto Il caso Serviva per rimanere nel set Però che Crost La chiusura La chiusura con il dritto Sulla riga Non chiede il falco Zheng Xi E allora Sospirone di sollievo Per Lina Batte per la terza volta in carriera Zheng Xi E' molto Cordiale La stretta di mano Tra le due E allora Si qualifica